Salve a tutti ragazzi e benvenuti qui su Elite Gaming ed eccoci qui con questa beta di Destiny. Ciò che ho fatto per arrivare in questo menu è semplicemente avviare la beta e premere AX a seconda della vostra console. Vi farà impostare la luminosità e gli angoli dello schermo che vabbè vi vedete da voi, non penso che vi interessi tanto a vedere quanto li ho regolati io. Anche perché dalla registrazione non so da che fonte lo registri, quindi tecnicamente non cambierebbe niente a vederlo voi. Lasciamo stare, dettagli tecnici a parte, quindi devo scegliere che classe fare. Quindi ne posso utilizzare solo una? È quello che mi stai dicendo? Warlock, stregone, vai. Maschio, femmina, allora maschio. Non voglio una femmina. Insonne. Ah, la specie. Wow. Un pesce. O exo. Che figata. Exo. Ho deciso. Volto. Tatatatam. Vediamo un po'. Oh che figato, ho anche più volti. Allora, quale posso selezionare? Uno che... Era racca... Questo qua era capricciante. Mi piace. Unterò questo. Molto umanoide. Sembrano i baionicoli ci giocavo da bambino. Questo, vai, mi piace. Colore. Talla che figa. Wow. Marron merda proprio. Ma io adoro il blu, quindi direi di buttarmi su un blu. Questo qua sicuro... Maybe... Optimus Prime. Sono Optimus Prime. Lo chiamerò Optimus Prime. Perfetto. Colore bocca? Ce l'aveva... Chiamare la bocca è un po' sbagliata. La luce bianca rende bene. Il colore degli occhi... Mabdon. Inquietante, inquietante, inquietante. Queste qua non sono malaccio. Vai. Optimus Prime. Scusa, cosa dovrei avere di accessori? Che bel cornin. Wow. Sono fantastici, ragazzi. Allora. Decisamente no, no. Optimus! Sono fottutamente Optimus Prime! Blu! Erano blu? Sì, dovrebbero essere blu. Quindi direi che gli accessori così segni. Cosa potrei metterse? Praticamente tatuaggi. Scusa, ma se li mettessi blu così? Quindi, semplice... Oh! Che figata, ho capito a cosa serve fare sta cosa. Semplicemente rendermelo un pochino più figo. Cicatrice. Non c'è rosso. Perché non c'è rosso? Bianca come sta... No, 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 no. Bianca come sarebbe? Blu. Sì, mi piace soltanto per il fatto che ha un po' di scuro in più. Così. Ho deciso. Fine. Posso dargli un nome? Non posso dargli un nome? Dai, ma il mio Opti come lo... Non posso chiamarlo il mio bellissimo Opti. Vabbè. Activision presenta... Così l'ignoranza atterriamo. Così. Così. Dal punto di vista tecnico è molto piacevole da guardare. Se questo è ambientato nel presente, sono curioso. Il viaggiatore, mi pare si chiama così. Il viaggiatore Lo chiamammo il viaggiatore e il suo arrivo ci cambiò per sempre. Grandi città furono costruite su Marte e Venere. Mercurio divenne un pianeta fertile. L'aspettativa di vita triplicò. Fu un'epoca di miracoli. Guardavamo la galassia e sapevamo che il nostro destino era camminare nella luce di altre stelle. Ma il viaggiatore aveva un nemico. L'oscurità che lo cercava da eoni nei bui vortici dello spazio. Molti secoli dopo l'età dell'oro, l'oscurità ci trovò. E fu la fine di tutto. Ma fu anche un inizio. E fu la fine di tutto. Ma fu la fine di tutto. La fine di tutto. Questa è la fine di tutto. La fine di tutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E queste penso siano i cattivoni. Che figata! Come inizio ci sta un botto. Guardiano, guardiano, ha funzionato. Sei vivo. Non sai da quanto tempo ti sto cercando. Sono uno spettro. Anzi, sono il tuo spettro. E tu? Ascolta, tu eri morto da tanto tempo. Ciò vedrai molte cose che non riuscirai a capire. Siamo in pericolo. Ci faranno a pezzi. Devo portarti alla città. Non muoverti. Non preoccuparti, sono qui con te. Dobbiamo muoverci. Presto.